Parliamo di Hitman, Killer per caso, film che uscirà al cinema il 27 giugno. Il regista di questo film è Richard Linklater ed è lo stesso regista di School of Rock. Non so se l'avete mai visto. School of Rock è un film divertente, un po' per bambini, ma secondo me diverte anche gli adulti. È un film molto simpatico. Il regista alla fine è piuttosto interessante ed è lo stesso di Boyhood, che è un film, insomma andatevi a informare perché è un film particolare, Boyhood. Partiamo dalla trama perché secondo me il trailer non vi fa capire. Allora lui, il protagonista, interpretato da Glenn Powell, è un professore universitario di filosofia e cose del genere e lavora per la polizia in alcune indagini per scovare delle persone che vogliono uccidere i propri cari. Per farlo ingaggiano dei killer. Quindi questa squadra in cui lavora Glenn Powell creano praticamente delle imboscate per scampare eventuali ingaggi di killer e mettiamo che una moglie voglia uccidere il marito, viene incastrata da loro. Quindi lui si finge un killer, ma nel farlo, nel fare questa cosa, ci prende gusto e inizia a fare diversi tipi di killer. Mi fermo qua sulla storia perché poi appunto non vorrei andare troppo oltre con le sorprese, perché poi è un film anche abbastanza imprevedibile. È un film molto divertente, è veramente un film molto divertente ed è scritto veramente bene. È scritto veramente bene e fa veramente ridere. Fa ridere tantissimo in tanti momenti, in tanti modi diversi ed è anche un film molto intelligente perché appunto affronta il tema, affronta temi filosofici e psicologici sulla personalità, no? Sul chi siamo, sul fatto che possiamo cambiare o no. E interpretando dei personaggi noi in realtà finiamo poi per acquisire i comportamenti di questi personaggi. Quindi noi possiamo effettivamente cambiare la nostra personalità. E il film è tutto su questo argomento qua. L'ho trovato un film veramente imprevedibile perché se all'inizio sembra insomma una cosa un po' una commedia romantica dove lui poi incontrerà una ragazza e si troverà un po' in difficoltà per il lavoro che fa, eccetera, poi il film cambia, diventa un po' thriller, diventa un po' thriller fino a un finale abbastanza nero, abbastanza più fortino, dove effettivamente si rivela essere un thriller questo film. Io, allora, dal punto di vista cinematografico e di estetica, non è un film che ha particolari cose da evidenziare. Diciamo che si concentra semplicemente su raccontare bene una storia e lo fa. Forse ecco, ha una parte centrale, questo però me lo sentirete dire a tantissimi film, ma è una parte centrale che si dilunga un pochino, che insomma fa un pochino calare l'interesse, ma poi si riprende benissimo e riesce a chiudere tutto quello che è aperto a livello di scrittura, riesce a chiuderlo perfettamente, dando anche un senso di soddisfazione allo spettatore non molto comune di questi tempi. Non un capolavoro, ma davvero un'ottima commedia, un'ottima commedia con delle tinte thriller. Mi ha sorpreso Glenn Power, questo attore con questi occhi piccolissimi e vicini, che sembrerebbe un attore di quelli un po' così solo bellocci. in realtà qua dimostra di essere molto bravo, mi ha sorpreso fisicamente Adriana Ariona, che è la sua coprotagonista femminile, che è splendida. Sono un po' preoccupato per il doppiaggio, perché questo è un film dove le battute possono essere veramente cancellate, annientate, e quindi annientando le battute diventa un film interessante per gli argomenti, perché vi ho detto che le affronta in modo intelligente, però insomma diventa noioso se cancelli le battute. Già nel trailer ho visto che c'è lo scambio di battute sulla torta, che è stato cambiato, non è così in lingua originale. Quindi non so che effetto potrebbe fare a voi vedere questo film doppiato. Per me in lingua originale è molto divertente, è scritto molto bene, poi insomma se mi capiterà vedrò anche la versione doppiata. Degna di nota anche l'interpretazione secondo me di Austin Amelio, che è un attore minore, diciamo, un caratterista che interpreta Jasper. Credo che lui fosse il tizio... Ragazzi qua è fenomenale, cioè io l'ho adorato. Fa spaccare dal ridere. Il tizio che nella serie The Walking Dead è magro, ha la faccia bruciata, quello che ha la faccia bruciata e i capelli lunghi biondi. Ecco qua lui interpreta un poliziotto ed è spassosissimo, è davvero bravo, veramente ha dato tantissimo in termini di comicità, di personalità a questo film. In generale tutto per quanto riguarda Hitman, devo dire che è stata una sorpresa. Il trailer è molto forviante, non pensavo potesse essere così divertente, invece è abbastanza divertente. Se volete veramente una cosa leggera, ma che vi dà anche un ottimo senso di soddisfazione, e che tratta anche degli argomenti intelligenti e guardate Hitman al cinema dal 27 giugno. Questa era una pubblicità ovviamente.